Il dato più rilevante della giornata di oggi sono i 34 guariti rispetto ai 13 nuovi casi. E' un dato che ci accompagna già da qualche giorno e che conferma come la capacità di diffusione del virus, la potenza diffusiva del virus sta diminuendo progressivamente. Per quanto riguarda la provincia di Arezzo abbiamo 9 nuovi casi a fronte di 12 soggetti guariti. I 9 soggetti nuovi casi sono 2 ad Arezzo, 1 a Capolona, 1 a Montevarchi, 1 a San Giovanni Valdarno e 4 a Bucine. Faccio un approfondimento su 2 dei 4 soggetti di Bucine, uno di 79 anni e uno di circa 88-89 anni, entrambi soggetti ospiti della RSA di Bucine al piano secondo che sono risultati, nonostante i tamponi eseguiti in precedenza che erano negativi, adesso sono risultati positivi. Questi due soggetti sono stati immediatamente trasferiti al piano zero e gli ambienti che li ospitavano al piano secondo sanificati e disinfettati. Gli ospiti che stavano con loro nella stanza sono stati risottoposti a tampone, ricordo che i precedenti tamponi avevano dato esito negativo. Per quanto riguarda i guariti, i guariti sono 2 ad Arezzo, 4 a Badia Tedalda, 1 a Bucine, 2 a Civitella Valdichiana, 1 a Loro Ciuffenna, 1 a San Giovanni Valdarno, 1 a Terranova Bracciolini. Ripeto, 12 guariti su 9 nuovi casi.